Ok, siamo in live Vediamo Ok, siamo in live ragazzi Siamo in live Ora vado su fortnite Facciamo un po' di coppie con il mio duo mate Oh papara Ok, siamo in live 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 Bella Aspetta che cambia skin Finalmente sono riuscito ad andare in live Ah, aspetta che vado a mettere il like tattico Allora Il problema è che per adesso ho sai quanti spettatori zero C'è il problema è che non me lo aggiorna Comunque, sai quello che ti ho scritto prima tipo bot 1v1 Eh, non è rovino burada Right, non lo so, sii, eh, sii, e che cazzo di account è? Eh, quello, guarda ti ho appena scritto in chat, eh, perché praticamente non lo so perché C'ho questo perché probabilmente facendo il 2FA Mi sono fatto un nuovo profilo E ora ce l'ho accessato su Youtube Boh ma non mi viene fuori Il messaggio Mi sono iscritto Ho messo la campanellina Ho messo like Ah ok Ora dimmi no Ora viene fuori Comunque Edo volevo dirti Io vorrei Adesso capire Adesso metto pure una storia su Instagram Perché se avessi server privati Farei un botto di visual Ci starebbe un botto Adesso scrivo Se Qual Allora Se qualcuno te li osta No Beh si ma dovrei Cioè dovrebbe essere uno che c'è sempre Ma no Ti ricordi che Beh tu ce l'hai un account di server privato Eh lo so Però infatti Però Cioè io potrei provare a vedere anche se funziona Perché secondo me con l'account li funziona Andiamo qua Andiamo Sì a sponda Sì comunque Gotham non è brutto No anzi andiamo a Gotham Ci arrivi Ah sono troppo No Ah anch'io Però se vuoi No però Cioè sei Sei la nuova arma quella là che ti pur rampino Secondo me è strautile Perché ti fa volare e ti fa andare stra lontano Comunque Fra sai cosa dovremmo fare Ho pensato Per avere un po' più di win Dovremmo tryardare Cioè non pushare sempre Eh lo so Dovremmo incominciare anche No cioè in stas season me ne sono proprio fregato delle win Anch'io A camperare un po' di più nelle pubbliche E fare win Perché comunque in coppia Cioè abbiamo i mezzi per fare le win Cioè ce la possiamo fare Sì lo so C'è un tipo Eh sta Fatto Fatto Chirotto L'ho cotto io Hai delle cure A te che c'è un tipo No porca troia No Però è one È one Eccolo si scelta Se mi becca Cazzo Dov'è Ok vabbè Aveva il pompo Dio Vuoi che proviamo a farne uno Un po' più tryardata A camperata Boh si può provare Due spettatori Mentre sei ancora in live Vedo No Allora due spettatori Bella Se qualcuno di voi vuole giocare Me lo dica comunque So che comunque sono pochi gli spettatori Ma se qualcuno Cioè io vorrei provare a vedere Come fare un accesso Cioè dovrei creare un nuovo account Se no Edo ti do le Le cose le password e tutto E te fai l'accesso E poi me le ricordo anche tutte le password Mi sembra Vediamo che adesso le vado a cercare Ecco Quando devo mandare le cose ai miei compagni di classe Poi è che devo prendere un quaderno Ok Allora Boh non so fra Perché Potremmo andare tipo qua Comunque vabbè dai Cioè Sembra poco Però sono Salito di quattro iscritti oggi Cioè perché comunque Avere i server privati Edo è la roba che ti fa salire di più di i follow Di gli iscritti Cioè o sei forte O hai i server privati Quello Allora Eccomi sono tornato Chi c'è in live sai? No Cioè so che c'è una persona Però non so chi sia C'è gente? Non mi pare sai Capisci quindi Comunque con l'account La cui server privati Adesso ho Ho le password Eh sì Cioè si potrebbe Sì poi Oh Che gioia Della vita Un bel pump Blu Questa è la seconda season Che ho fatto meno win Pensata Anch'io Poi ero in vacanza Quando eravamo dal bar alla Tra ieri Davamo poco Beh Ad al bar alla c'era anch'io Poi adesso Ah leo Se vuoi guarda Ah no Madonna Pensavo che era un po' in paura Quella ora Invece sta roba qua Posso? Ti dico è utile Sì sì Ce la gioia È strautile Ma hai mai giocato con un player degli astral? Beh il crel capo e poi un altro Una volta Forte Buono Hai shield? Shieldone Aia Ah fermo Prendi te lo straccio qua Ma ti hanno sparato o sei caduto con un pirla? No 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 Non c'è non caduto Sono caduto Però ma Non capisco perché non mi fa schiacciare ho Come non ti fa schiacciare? C'è per scendere Sì per saltare soldi Vabbè la scelta Chi è in live può capire Ok mandami quello che vuoi Vabbè segni a rint Ok Ok a posto Visto sono una persona troppo buona Ma alla fine perché non registravi? Cioè perché non lo so Non lo so Comunque Edo E dopo vorresti provare a A fare l'account Dopo quando perché Boh sì cioè voleva anche un po' giocare Sì beh giustamente però tanto sono le 8 e 45 Sì non è tardi voglio dire Sì sì Di certo entro con un altro profilo Ti mando l'amicizia così No non possiamo neanche rimanere in gruppo perché il pc Vabbè se vuoi stiamo in chiamata Ecco sì E dopo vedo Prova a vedere se funziona dopo Ti do anche le password e tutto Sì ma mi sembra di ricordarla adesso Non so se c'è qualcuno in live Eh volevo le posso dire le credenziali Vediamo Ci sono tre spettatori Ok allora Quindi no Non buttiamo via 10 euro 4 Edo 4 adesso 4 Secondo me è un ale Sì Secondo me è un ale Sì Sì Contro e do 4 Leonardo sento l'ecco della tua live Eh vabbè fra Comunque sono riuscito a mettere lo sponsor di Streamlabs Ahah Che non servirà a niente Sì non metterlo sponsor di Streamlabs Che non servirà a niente Ma perché adesso sento il rumore della live? E prima non lo sentivo Perché io la stavo guardando Ah togliela Eh l'ho tolta PM Mi scusi signora 4 spettatori non me lo aspettavo Perché ho messo Ho messo il link della live su youtube Cioè sul mio profilista Eh sul mio stato Comunque là c'è una slurp Comunque Bonazzoli era venuto nella mia prima live E mi ha scritto Se bestemmi centomila volte ti dono mille euro E' entrato anche diegica L'ho visto Ho sponato più Grazie Ok Ok Perché Servita molto Sì Vediamo Aspetta lo uso anch'io C'è la vending Vending Viola I like Strautile Fra Ci sono tutti i pompo a viola Vediamo quanti spettatori siamo adesso Sempre quattro Ma dopo pensi di fare Anche con la facecam O rimani così No 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 Forse la faccio con la facecam Aspetta Allora 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 Adesso gli dico Ad Ale Che è in live Di andarmi a mettere la copertina Al mio video precedente Adesso Abbiamo un'aria troppo vicino Ah Aspetta che te la do Ale Ah gliela dai a Ale No aspetta Gli do la La foto Lui quando è che si prende il pc Non lo so Ale Metti questa Se Se mi senti Però credo di sì Ecco Perché sei in live Quindi credo che mi senti Cinque spettatori Però credo di sì Ecco Ciao Biasi Che ho visto che sei in live Ciao Biasi Che non so chi sei È il figlio di È il figlio di Oliver Ah sì Ok Ho capito Ho capito Vediamo se Ale Ah ciao Ricky Che ho visto Adesso che sei il quinto Comunque Ale Mettimi la copertina Che ti ho mandato Riccardo Ludian Sì Bella per Ricky Il tuo amore Sceglini per te C'è pure Rise No No vabbè ma C'è No no Ancora È litigato di nuovo Con Riccardo Spero di non farlo di nuovo Ok Io sono full legno Ah non te lo prendi il pompa Dove Io ce l'ho già blu Non mi interessa C'ho il nonno Eh Ah io non ho blu Rise Aspettate Lì Quello col padre imprenditore Che fa Fatturata No Quello che è negli alfa Cazzo Ah Rise devi farmi entrare negli alfa Dai ti prego Ma gli alfa che team sono Fermo È quello che volevamo entrare Che abbiamo chiesto il provino Ah ma il farai già quello che ha il padre imprenditore Che fa fatturato E ha un'azienda strana Leo Hai capito? Sì È Checco Sì è Checco Rafa c'è un robot Eh vedo Ti sto sparando Mi punto Mi punto Vecchio io ho una jump Scappa scappa Mettila mettila Eh vieni da me Mettila Ah vieni da me Dai Sto mettendo Sì ma siamo andati uno di qua Uno di là Porca troia Ti rincontriamo dopo Sì sì Se io sopravvivo Non avevi quel rampino Scusa Sì ma Forse è facile usarlo Sì 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 Se riesci a venire da me che ho le splash Magari Voglia Mi sto straparando il culo Quanti siamo in live Cinque Occhio vai là che c'è un falò Occhio vai là che c'è un falò Sette Siamo in set in live Porca puttana Guardalo Guardalo Che BM Che BM Ale Che BM C'è l'GG in lobby Ma perché non lo sento Ma ecco la playstation O con qualcos'altro Aspetta aspetta Forse dobbiamo cambiare Ma sì 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 C'è 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 Ma Ale parla o no? Sì Sto andando il microfono Ma Ale non ti sentiamo Ciao Jakiro Non ci credo C'è karma Oh Prenditi anche le vende Prenditi anche le vende Che non voglio spiegare il tuo splash Quanto è stasi per la mia entrata Non ci credo Alle cuffie nuove Ciao Ale Ciao Ale Io stavo parlando Ad ero mutato Ho fatto una prima mutata Aspetta aspetta Ah Rise Rise Aspetta Non ho capito cosa intendi Schermo intero Ah ok ok Messo Lorenzo Ma ti ho cambiato le cuffie Ah grazie Sì Testine L'ho regalato a un mio amico Che non ce l'aveva Ok Ci pensa agli altri Scusami che è povera L'orevo Beh le cuffie erano anche belle Peccato che dopo se uno le tira No le ho pensate Poi le ho tirate Ah ah Allora Ti ho mai dato Come ho detto questa dedica Tu La tua forza su xbox Rappresenta la forza di un mobile player Perché Eh guarda che c'è qualche mobile player forte Non preoccuparti Un'estr Un'ephase Comunque raga 7 spettatori Cioè non me lo aspettavo Ma c'è anche un'ephase Sì Io Rise Jekiro Turri Rikki Turri Ah Dai raga però iscrivetevi No la Ma chi è tu C'è gente che è andata via Siamo in 5 È un nostro compagno di classe Mi fa ridere come tognome Turri Turri Come tognome Come tognome Turri nabbo Io sono in un'area 51 Nel'area 51 ci sono visitato in 150 Cioè siamo di più alle casalini Vabbè dai raga Volevo andarsi anch'io Sì Io mi vedo tra Edoardo lì in l'area 51 Mi riva Sbuccarellato di colpi Io mi vedo Io e Lorenzo che andiamo nella Raga 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 Edo e si la gara Edo 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 Sto arrivando figa Setteva e avanti da solo Io mi immagino Io penso che corriamo nella ragazza Io mi immagino Se cosa faceva Edo Se l'area 51 Il cartello è entrato W331 Credo che dici Andate 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 Poi rimane lì Sì vabbè Matteo scatto un botolpc Leo Non so se sai perché sei in live Sì cifra 90 fps 160 Aspetta la 6 Dio cristo Si Scatto a merda Ma sono di live Scatto a merda Ma a me no No a me no raga Non sta scattando Fpx Scritto già Kiro Ma a me A me lo sta scattando Non neanche adesso Neanche adesso Neanche adesso Neanche adesso Aspetta Ma su che piattaforma stai streammando E youtube Sprite Btv Sì ma Leo Leo ascolta Ti aggiungo una visualizzazione E il problema Il problema sai qual è che se tu hai messo 165 fps e ne fai 90 Cioè non so Ecco per se si mette un video di youtube in live Perché non edita? Eh perché ne faccio 90 Astardi Figuro sfondo comunque Eh lo so Vabbè che cazzo devo fare Dai raga Qualcuno si iscrive al canale E tu E tu niente si è iscritto Purtroppo quella al cane di Venom Grande c'è Kiro Quattro spettatori Qualcuno si iscriva raga Così arriviamo a 60 Leonardo Sai che quello che siamo andati dal barella E con Nicola E il frattempo Eh lo so Lo so lo so Comunque Com'è che faccio ad aggiungere un account qua su PC Sì Chi chiama? Com'è il sito dell'Epic Linello BTV Sì Eh l'account che serve ai privati Sembra Faye è uno che ti dà il nome che si chiama Linello BTV No Sì 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 Raga non so fare sto a dita Ma raga ma se io adesso avvio il sito dell'Epic Crepi Attento Se vuoi vedere le crisi nazionali Sei live Eh io non le ho date Ma leo Ascolta ma Ti scatta di più se metti la La chat Sullo schermo Come cazzo faccio a metterla Eh non so So solo che scatta di più Ah che se metti la facecam Da 144 FPS Passa a 60 Porca boia perché Ha che preso un sacco E di avere due pc Sia per stream Vabbè o Parà Wow No due pc Due monitor No due pc La potenza è due pc Uno per stream Uno per gioco Se hai altri mille euro da spendere Ne ne prendi uno per la stream Porca capitana Cioè Hai altri mille euro da spendere Ah che posso chiedere a mio nonno Sai com'è Ma ti servono due schermi poi No no mi serve un altro pc Perché devo Perché devo streamare Sai com'è no E fare tre spettatori Ah comunque non per dire Hai fatto più spettatori In questa live Che io prima Nelle live di The Forest E ho fatti zero fissi Grande Sì perché fa O porto Fortnite Era un gioco No era un gioco bello Cioè ho anche fatto la stream Però o porto Fortnite Non te ne faccio Non ti faccio Dove che ti faccio O porto a vederla live Dai karma Karma devi Devi iscriverti Così arrivo a 60 iscritti Sì Sono 60 iscritti Grazie a me Questo era il canale di Venom Ti ricordo Mi puoi fare lo so Che non ho ancora capito Allora Sprite Ah C'è Fabri Fabri Fibra Leo ma Fabri Quello di Albarello Per caso No Comunque C'è Guarda Praticamente ho messo la roba sullo stato E' venuta tutta la gente Ho messo la roba su Instagram Non è venuto nessuno Ma con te le visioni Mi danno su Instagram le stories In questa lobby Sono io il più forte Ale ma non hai messo la copertina Sì che l'ho messa Si deve caricare Però Ah ok No Non te la fa Allora A te non te la fa Due Anche non posso metterla Nelle live Che stai facendo Posso aspettare solo le altre O questa copertina La mette nel live Corsa Che hai fatto Perché deve durare 40 minuti Perché Vuole durare due ore Eh vabbè Ale ma non c'era nessuno Stavo facendo delle singole Stavo facendo cagare Stavo facendo cagare Ma mio padre me l'ha rinforzato Vabbè elimina le alcune anche Eh potrei Quella lì la elimino L'altro ballo L'altro ballo Allora un mio amico mi ha regalato l'altro ballo E mi è arrivato questo Grande Ale non me lo fai Però ce l'hai anche l'altro No quell'altro No l'altro no Perché avevi E' andare sul tuo youtube E fare il link Che bello Dio Allora Tutte le ore 5 turni E i minotti E i minotti E i minotti Andiamo qui Allora Un mese fa L'Iconic 1000 euro Un giorno fa 10 euro Ma Lorenzo Come l'hai preso Ah è dal tuo amico Oddio Rega 9 fps Che bello Che bello La pese 4 Perché 9 Ma com'è Io sto passando Da 80 a 120 Adesso Da 9 a 72 E la macchina Ma c'è una macchina Ah per caso E degli stream sniper No perché c'è un po' di gente No no Sono in train live Eh vabbè Questo c'è il confo Ah vabbè No ma C'è un tipo di mano Non ho capito brutto Scappa 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 Calma vengo da te Vado dai più Ah ma carne ho morto Volevo dire vado Vado dai più forti Tipo col pompa Che l'ha ucciso Poi dico Ok grande Credo che fosse uno di voi E poi scopro che è un nemico Non ci credo Non ho materiali Vabbè bella Dove è Ale 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 Ho due lama ho trovato Lama Non ho armi Leo Non mi ha trovato Non mi ha visto Non mi ha visto Io cono raga Leo guarda qua No male adesso Sotto i vikinghi Allora Leo Sotto i vikinghi c'era un lama Ok sono andato a prenderlo Non c'ho armi Guarda Ce n'è un altro Comunque allora Adesso Ale tu Se cosa devi fare Devi clacciare Vero Io faccio 10 Ok non mi ha visto Io questo prima Mi hai passato davanti Non mi ha visto 5 spettatori Bello Bello Ma suicidarti Sarebbe un'opzione Ma raga Ma io volendo Puoi suicidarti Per favore No ma Continuo La claccio male Ale Ale Vabbè Vabbè a prendere la scheda Ce la fai Ce la fai Se ti impendi Ce la fai Lo so Lo so Ma C'è un primo Non le ho calma No c'hai 40 secondi Non hai tanto Ale Eh ma aspetta Che prendo un'arma Però eh Dai non la prendi Non ce la fai Sì ma scatto di FPS Non hai capito Un cazzo Eh vabbè Prova Dai Ale Ma non aprile la cassa Lascia che faccia le 20 bombe Ma va Dai Vai a prendere Quella di karma Che ti porta In tutto e per tutto Ma Cristo io No 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 le prendi Quella di karma Almeno è la sua Che è la più forte di Leo Ma perché karma Ah gli mancano 20 secondi Perché lui era Per terra C'era morto dopo No Eh vabbè Vabbè C'era morta di Dai Dai Te la fai Perché sei fermo Qual'era di una forza incredibile Se c'è sempre una ninja Chi era Sembrava ma Perché tu devi sempre rovinare tutto con le tue battute Eh non era bello Eh non era bello Ma è ancora vivo raga ma io volendo potrei prendere quel collegare quell'account e mentre sto giocando in questo perché ha un account coi server privati no non puoi scrascia tutto poi qui ci stream sniper quelle tre persone pensate che bastardi che sono associisti in serra verano quelle tre persone cioè vabbè viene più gente no vabbè lo faccio domani stasera giochiamo ma gli altri ma gli ari fagano fagano ma gli arabi live ma fagano è scomparso ok grazie per averci preso la scheda no c'è chilo bastardo c'è un bastardo no è un bastardo anche al c'è veramente anche jacquiro è un bastardo anche un jacquiro tutti i bastardi in sto mondo tu per piangere fai vedere un hamburger ok eh non so non trovo le moto la frana ma la beda ma non è vera è un mio compagno di classe non lo conosce anche l'ero ma allora e lo sanno ascolta e un altro da un come nicolino e giacomino come che si chiamavano quei due che hai fatto conservano in creativa si non lo sapi non l'abbiamo fatta è un bello alta notte l'hai fatta con con che ecco che non c'è mai giocato lorenzo si deve andare a prendere il cuore scudo che erano nella macchinetta ho una memoria comunque qua allora il più forte sono io la macchina in questa lombria ragazzi hanno preso la macchinetta è vero voglio sentire il secondo no voglio adesso voglio sentire chi è il secondo più forte è leonardo terzo lorenzo e quarto ale in lobby in quattro vero no in verità la classifica è ribaltata al contrario probabilmente anzi sicuramente io il più scarso sicuro dopo c'è leo lorenzo e ale dopo dopo quattro spettatori comunque c'è buona non è che me ne frega i tuoi quattro spettatori eh tre sono scesi lorenzo ma come si chiama xian su fortnite si gioca come cazzo si pronuncia il suo nome? eh i più lontimi editor però non gioca più da un botto ma non era quello la che quando stavamo giocando io e te in creativa è venuto anche lui e mi ha fatto una creativa intera eh si ma l'ho invitato io non ti ricordi no vabbè vabbè io sono da un quella non c'era da specificarlo all'aggc si sa noob ma poi cosa vuol dire vostro token non riesco a caricare sono un cazzo di babbo sono un babbo di mince neo perchè ti sei preso il pc che prima la gente da pc c'ho le mani impastate 9 kill sto qua 7 kill eh 3 7 ciao ma ne hanno già 21 di kill sti qua che problemi c'hanno vabbè facciamo creativa si esatto zone wars se volete fare si vai si si raga se vinco io mi pagate però sto kaiser ok ok se vinci una partita appena ti vedi 12 euro scommetti si si ma non mi vedrai mai più allora se riesci a vincere 5 di fila ti regalo la corsa della foglia cioè quella che hai no se ti riesci a vincere 5 di fila io ti regalo la schiena leggendare tuo tracimento giuro no raga 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 r che facciamo creativa rimani che giochiamo creativa tommaso rimani che giochiamo creativo yes broda yes so che tu sei il mio ah anche tu tommaso veda vai nella mia live a mettere like vai andiamo come ti chiami e sprite btv con la s grande è scritto sprite con la y si chiama bibita gasata btv no sprite btv ah quindi bibita gasata senza clan bibita gasata a proposito ah fai la flosfera che non me la ricordo più sinceramente io ormai faccio solo questa sprite com'è che si dice? allora devo sentire la musica s grande pr ok ah yt e dopo c'è Lorenzo che rovina tutto col suo ballo perchè non mi riesco a sentire la musica ah yt ma io non lo faccio apposta lo giuro spazio btv ah quindi ti chiami bibita gasata bai per lei a proposito ah sì ma giunna c'è ti pensi l'ama beh ragione io voglio arrivare a 6000 numa cop chromatic braw star pe edle l'hai trovato perché perché ma tu giochi anchora a bruc tasse ma chi ci gioca a capire bruc tasse neanche neanche io ci gioco come la femmina come la femmina comunque chi potuto area 51 o comunque sono salita di scritti c'è quello lo so guardalo guarda come corre tutto fiero sono troppo veloce c'è se io sicuro in giro per loro perché sono un po pigliare sono troppo veloce aspetta edo su questo o se questo io sono questo è questo quello che ero c'è dovreste sentire vi onorati di essere in live comunque raga non c'è un cazzo di nessuno cioè c'è una persona siamo passati da sette persone a una adesso voglio vedere che cosa ha messo lorenzo non viene più raga forse è la persona che c'è in live rimani rimani è la prima volta che gioco con tutte persone che ho visto saldivo attorno non mi ha mai visto dal buco non ero io ho fatto un culo non ha la verità chi è la chi era quello era lui di anche quello no 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 sfiga sta roba però mi piace porto tutti belli ahah già rompere che è quello che sta che mi spazio bella sta roba però mi piace oh vabbè lorenzo is bullizzato tutti ucciso karma tutti tutti per le due persone che sono in live raga lo so che sono un pro se avete qualche team con c'è tanto forte potete chiamarmi se mi date quei due milioni all'anno posso anche venire non c'è forse non è detto intanto sto morendo doveva essere veda attenti all'angia granate fiola sii raga ma non bisogna buttarlo sii ma non guarda chi è questo qua è ale si è ale si vede da come gioca beh dai già hai ucciso uno di morti di tela ho sentito no no stava sparando ahahah non si era ale o l'alto beh beh ed ecco per i pietri chiati io e lui con lancia granate poi tu da dietro lorenzo dopo dal vivo mi dai 10 euro va bene se vinco no devi vincere 5 euro però me li dai va bene quando ci vediamo no no tra dieci anni beh ci vedremo fra due settimane no ale avevi pochissimo bastardo che non sai altro comunque già uno non l'hai vinto quindi già altri devo dare che accettivo che sei io domani domani stringo la mano a Turri ma Turri è un un Turri proprio sei un Turri Turri non so chi sei ma proprio tre spettatori raga dai che risaliamo oh mio dio dai che risaliamo beh prima c'è dai Turri oh mio dio oh mio dio dai Turri chiama tua nonna chiama tua mamma chiama chiunque conosci porco Turri porco Turri ma sentono il nostro audio si ho un pc buono no come la play che è strimida sharp factor ma scagare se ben stessi se ben stessi segnalano la live speriamo di no se tu 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 mi hai mai successo nulla beh, a me è piaciuto la life migliore di Alice è stata quella dove ha lasciato il bambino dov'è? aiaia 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 ha voluto, ha voluto ha voluto no te l'ho detto è morto di centro ma è morto no, è tipo da 2 ore che se il gioco creativo vuol dire di safe in ogni mappa possibile vabbè ragazzi ho 4 di vita io non è che ho 4 di safe non è che ho 4 di safe allora è migliorato un botto vabbè fa 100pps in più di 100pps in più di me eh però edusale ha migliorato un botto nel building nessuno dai! no, no sono atterrato male sono atterrato male ah è stato bellissimo vederlo che sfiga vediamo 3 spettatori IARI IARI grandi cazzo IARI se puoi giocare cazzo IARI certo vabbè raga dai sponsorizziamo la live raga prima eravamo 7 spettatori IARI dimmi quando stai giocando che ti invito se qualcuno mi manda se qualcuno mi manda lì insieme se qualcuno mi manda lì insieme io si si che ho il tuo numero ho il tuo numero edo è il mio numero ahhh beh avevo il tuo numero vecchio oh edo inoltre mi il suo numero Aspetta Ma per cosa Per mandargli il link Della live Ma perché sono così scarto Se no vai su Instagram e scrivi Astral di tu C'è Astral Sprite Oddio Edo Raga Edo San Edo San Edo San Edo San Lore ti mando il link Della live Ecco mandaglielo direttamente tu Mandaglielo anche a Beda Se hai il suo numero E certo che ce l'ho Sprite BTV Dal vivo No Aspetta prima faccio sta partita però Scusi Non posso spaccare Ah no Non vedo ancora partita Ma adesso se mi sceglie Iari Si fra un po' si Dai Iari Ma non mi bella Che problema Iari dovrebbe essere ancora Arrabbiato Com'è probabilmente Bello Che mira raga Comunque raga Sono salito di 5 iscrivi C'è No di 5 Anche un po' di più Bello Che è questo iracheno C'è Avevo 53 iscritti Stamattina Sono a 61 Se Non ci credo E kill a 1 più forte È la seconda volta che kill a 1 più fortuna Sono un pro play Avevo 60 di vita Perché quello mi ha buttato giù Mi ha uscito una granata Ai 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 a Chi è che mi spara Dalla mira sembra Dopo può anche essere Eh no Quanto si fa Eh in realità Può essere bella Stavo dicendo Iperità può essere bella Eccolo di carichi batterie! No, 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 no. No, 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 no. Vai, da. Tommy. Oh, io sai per chi gioco. Gioco per Xylor. No, no, no. Porca troia, Ale. Cancro, cancro, maledetto. oh questo giocato a un'idea ok io vado controlli no non sono riuscito a fare il flick ok scopo forca puttana di rottura ma come si parebbe a mettere la la facecam sui no il coso sul joystick mi hai fatto cadere su un bm ora ho fatto una mossa raga come si farebbe a fare la roba sul joystick c'è sapete che alcuni streamer hanno il joystick che si vede che si muove come si fa è difficile quella da fare ma come si fa di avere un tipo strabico chi è? eh dai 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 cazzo eh vabbè eh è forte ah le gg 500 e 400 win quante ne hanno? lo so eh 501 o 502 grande ne hai più Yari ma in totale Yari stai scassando raga ma una volta potete non o mi hai recuperato o non farmi scopo no no Yari ne aveva 200 tipo Yari ma no ne aveva di più però comunque mi ha recuperato un botto 300 ne aveva ma che ne aveva 300 Yari oh zitto adesso ne ha tipo 270 una roba del genere ma cosa? win solo 270 470 ah ho capito 270 ah ho capito 270 poi cazzo ma già a buttarmi giù voi guarda quello è karma no dove è? dove è? dove è? no c'è edo non c'è edo ragazzi che è che ha bildato e dopo si è buttato su una jump io karma oh cacca oh madonna ero sotto di te ah ya dio tecnica edo sanna butta giù ma chi è che butta giù? edo sanna godos ti buttano giù no ciao adesso vedi bm perchè ho messo la trappola così? perchè? perchè? dio delle città dio delle città dio delle città ma le cose dio delle città ragazzo ho visto qualcosa di paranormale carma che faceva 171 e 35 a petto voglia carmaco rana cazzo 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 come si è salvato carma come sta facendo rinconi ciao un po' rincoglionito di suo ragazzi per quelli della live è stata una prelibatezza lo so la prossima volta ti stringo la mano iari ma vieni a giocare o no dai perchè sai che hai detto iari ha 470 win e io ti abbiamo detto non ci credo iari ha scritto leo rosica in silenzio no no ma dei complimenti cioè bravo eh però ha uno di kd meno di me cioè no no uno no però ha tutto 0.5 raga io c'ho un bug che mi si collega al controllo quindi una volta non mi sentirete non mi sento perchè mi sento adesso divento il monzac della situazione e apro tutti quanti ok ti dico io lancia razzi quindi è meglio che non buildi tanto e fai tempo il mongran io c'ho lanciato il monzac della situazione ah ho capito divento il monzac della situazione ma non mi vinta non mi vinta ma chi è mongran è uno uno che conosciamo noi che però anche lui accorde beh si però c'è in confronto mongran non è che ora ci cazzo il tuo karma di merda eh grazie prego alessandro sei sempre gentile con tutti e' proprio perchè mi odio non mi chiodo spammi non so chi è giallo però mi io lorenza eri tu? no ero io beda ma non ti sei fatto ogni al condanno chi è stato amato guarda laccismo uh beda beda distrutto ho finito i razzi ma karma mi regala ma di ok ucciso beda non ci credo eh sorry ahia 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 tu lo sanno di davanti no io spero no cosa sta andando o lo butti giù o lo mandi fuori safe uno delle due ma cosa che lo faccio a soffrire che mi ha bildato ah ah c'è qua lui è già qua prego uccidilo uccidilo ma la trappola ti prego dimmi che è una trappola no ce la stavo per mettere ce la stavo per mettere la trappola per fortuna mi ha killetto prima bella la skin arma mi piace sembra una roba di rainbow six cosa che skin quella di arma di ale eh non la vedo sai com'è mi hai ucciso tu e ti ha ucciso non so perchè ma vedo comunque raga c'è il lancio granate c'è ancora in gioco no? si ce l'ho no no ma no nel gioco reale nel gioco reale ehm leo ti ricordi che in questo gioco bisogna uccidere si chiudono le armi non overbillare non overbillare no no cazzo stavo per mettere la trappola Ale non aveva materiali lei non aveva no si sapevo 9 di mazza io rimango sempre senza mazza ah non curo ah ma ragazzi io non trovo mai il nonno trovo sempre quel pompa di merda ah e tu non sei comunque ah comunque sono giocando nei più non perdura ah ok edo non sei uscito che è uscito no ma sei il credito il tuo team il tuo team mondiale ma chi è che ha in realtà perchè il primo a un certo punto non siamo più parlati boh adesso è iniziato a giocare a fifa ora proprio non giocano più quindi ciao ah fifa sto provando a giocare il clou sto provando a giocare il clou sto provando a giocare il clou no tu ti e non so tu ti è iniziato a giocare a fifa mi si sa come perchè ma chi è che manca adesso leo leo le ha acquistato no ci sono perchè che cazzo dici ah bm ma addirittura che è capitato che è capitato ragazzi siamo in quattro eh allora ho chiesto a posto no ma metti che sei tommy ci sei sì tommy c'è infatti che e sicuro che e lo sei sicuro che sei tu che sei ma anche ma non te ne accorgi oggi ma no è qua davanti a me che lo sto andando a pushare ora che sarà un bacio aia allora oh c'è che mi sto madonna 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 con quanta vita con quanta vita ragazzi avevo scuso meno 50 avevi 51 di vita perchè non ti curi dentro la bolla perchè loro mi vedono così fuori quindi non mi rispono sparare per doppio tipo ma chi è chi laser è che non si fa male due e io non mi riesco io porco mamma mia raga io ciò mia mamma qui giù che porca ragazze o gli asci eserò la partita è giuntata che me lo vuole cambiare per un anno io ok edo perché non ti sei preso il nonno blu perciò il posto avevi l'anno vabbè la vita sai che non ho voglia di fare in mare conale ho fatto tutti i compiti tranne quelli di lettera di mantolo già che erano quelli su tipo disco e non è il mio amore mi ha fatto tutti i treni con il vento l'uomo no obiettivo no obiettivo non so dove l'hai visto che la rainbow six tipo la skin per il pompa di termite perchè ho messo la trappola dio delle cities l'uomo perchè ti ho delle chicche cosa vuole non lo so non lo so ok ok vabbè 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 boia senza math oh oh questa è la sfida tra titani vediamo chi è il più forte sfida tra mobile player nav boom stai zitto no è switch player versus mobile player si ma 165 fps sono buoni tutti anche scattoli adesso scattoli è più grosso di me oh oh ah la faccia di scattoli beh non per dire raga non per dire però il pompa di edo ha fatto 46 47 non me ne frega non me ne frega un cazzo pussies bitch e che tu vabbè è un'altra cosa però va bene comunque ale è una cagata perchè con scattoli ci ho giocato oggi e non è più forte di me no ma oggi mi scrive e mi fa oi edo ma vieni in fattoria e io dico ma sono di padova ma vero perchè ho detto di no che non avevo molta voglia ehm ma anche sto a metà rovigo a metà rovigo e anche quando andiamo a dico ho capito che ogni tanto ci vengo con Leo in fattoria però non è che sono sempre in fattoria c'è che ho diventato il mini monzac uno no fudo comunque anche monzac non è fluido ma noo perché ha la 2 di building ma perché ma omis may disniperate o cosa c'è uno con il lanciarazzi che si dovrebbe vergognare di esistere c'è leonardo che l'ho vista no si butta tutto io scendo io scendo porco zio tronics e vabbè al è troppo forte beh adesso c'è anche dosan no karma però c'è un po di ragga no ma perché non gli parte no raga no no è da cancri fare così è da cancri che persona brutta che sei dai raga vabbè alè fa quel cacchio che vuoi lascio la essere in saloppia è da cancri 62 iscritti raga ce l'ho fatta ora guadagnerai 10 mila euro ora guadagnerai 10 mila euro a video ragazzo bali e dosan mi voglio ballare problemi c'era libera non c'è la libertà vigilata non so cosa voglio dire ma non credo il ballo non so presi neanche cosa vuol dire ciao quindi no ma qualcuno ha preso sufficiente questo comportamento no edo questo fucile è faltamente schifo beh da quanto hai preso il comportamento scusate è ottimo sì come se ho preso sufficiente questa non so sbaglio o la si viste tipo teletrasportata no volevo fare il flick ragazzi è stupida sono la vincita devo farti capire il mio livello di da base cioè mi ero più forte in season 6 ora ti tocca competere con tre dosan praticamente pensa tale cosa sei arrivato Ale ma finché mi gioco GTA 5 rainbow e the forest beh the forest giochi che gioco è che non mi ricordo più ma c'è su xbox the forest è quello dove ci sono i cannibali che ti vengono a salutare e dove devi recuperare dimmi si ma io ce l'ho avuto gratis grazie al mio amico che figlio di butta il tuo amico no ma che bug perchè c'è su bug e come si può rompere prima perchè tutti ti trovate il nonno però e io non ce l'ho io no ma ero anche lui perchè mi ha seguito perchè Ale mi ha trovato ma quanto lago ma quanto lago ma quanto lago ora una manca di segno occhio a Lorenzo che Ale è scarso perchè usa il pompa di termine vuol dire questo nonno vuol dire questo nonno perchè perchè ma perchè ti ha un nome trappole lago ma perchè ti ha un nome trappole lago vabbè raga ma adesso giochi ancora gta Lorenzo c'è un po' c'è un po' ma online si ovvio beh in realtà sai che ho rifatto la storia perchè così tanto perdendo si che non l'hai detta ah beh da visto che sono qua con te e sono qua con Lorenzo allora Lorenzo tu hai un parente che si chiama Thomas tu gnonna no ok no eh non ballare non ballare non si può sono i vedi pro no vabbè adesso c'è Bortolami che mi manda i messaggi vocali certo facciamo le due mentre siamo in sono in 5 con i cd è venuto anche Luca ah no Luca è bortolami voglia raga ma quante siamo ok e io sono ancora in live ma addio delle città what e nei cieli ah perché premo i tasti premo i canali chi è squelz comunque squelz uso una gxt sto facendo cagare comunque una season fa vi battevo solo con la R adesso boh mi tocca pure sudare pensate penso a te Leo dai io una rena ti faccio di carriare Leo in aria tutte le win che hai sono state carriate da me no tutte le win anche senza arena che cazzo dite io non ho anche facevo Leo giocavi dalla season 4 fino alla season 6 avevi 6 win sono arrivato io nella season 7 ne avevi 80 sì ma allora farsi carriare vuol dire non fare chi io ne chile facevo sì ma una e alle 20 hai rotto il cazzo e da non credere che tu sia tanto diverso eh che tu le win appunto ma io lo metto che ha le mie carriano 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 io mi ricordo appunto c'è tra karma e ale tutti mi carriano qua loro sono due che mi hanno sempre carriato questo ricchione per me si è ricchione ale gg on the building comunque ale può poi farti valere sei il più forte anche tra ice matic che vedo anche se non so chi è 5 7 7 di vita 7 di vita ma ale come fai a dare 9 che è ice matic è niente no no ciao non c'è l'altro che fa l'estamini ecco è un altro che gioca d'osso maile vuoi sapere anche le statistiche esatte oltre la 2 milioni e mezzo delle sue score quasi 10.000 match 500 passo quindi il punto 15 di kd e il 6% di una partita mi sono perso quando hai detto la prima parola che neanche mi ricordo qual è ah beh allora c'è forte in track accadena mrdg sembra tipo le robe per Instagram ma posso avere un po' per il del nonno blu no verde io non ho il nonno si ce vuoi sapere le mie statistiche è 120 win ma ti puoi già roma per te ma perché ma perché ma che cazzo ma che cazzo ma dai che cazzo vuoi dio santo ma io non sapevo che hai detto ho molti coi in mano dai vabbè vabbè basta è che io mi uccido basta mi sono toccato addio vabbè mi uccide pure non si può neanche suicidare in questo mondo no voglio fare la roba figa della spinta edo lo facciamo quel torneo là sì sì no non ci credo ti ho massacrato edo eh raga si è finito ti ho massacrato i don't like che siamo zero spettatori i don't like eccolo ciao a mio compagno di classe oltre beta e c'è anche lui ciao 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 ma cosa cosa ha fatto come un bel dalla mattina alla sera mi diverto un sacco per more ancora ma pure adesso ale dice le sue statistiche che cosa ha fatto vabbè due milioni e mezzo di score what the fuck raga 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 è il mio compagno di classe ma quello la era vanilla ice e cantava ice ice baby no ice ice borto no no mi ricordo che cantavo una roba tipo ice ice borto me lo ricordo no io lo cantavo ah no ah si è vero praticamente nicola c'era un tuo amico che è entrato con il tuo account e lui faceva ice ice borto ma tipo c'era un tipo non so chi era non so chi fosse bm era tuo padre raga ci siete? no è un po' come buzzi e altieri che vanno nelle scuole private per sono un padre ubriaco quando torno dal lavoro e picchia suo figlio dai raga giochiamo intanto se gli altri non si vanno non ma sai che dovevate quittare dall'isola non dal ah vabbè io ho quittato da tutto ma perchè c'è materiali e munizioni raga 144 fps oh my god io leo io 59 raga ma anche a voi quando entrate tipo alla pinnacoli nuova vi dà uno di ping si no per l'agra un botto lì si però chi dice uno di ping ma come fa quando laghi? come fa laghi? come fa laghi? come fa laghi? come fa laghi? di frame laghi? eh fa tutto il fighetto con i termini si anche nicola oggi che dicevo sto frame laggando sto frame laggando sto frame laggando sto frame laggando si ma frame laggare non da play o solo in endgame come nella world cup cosa facevo io ma frame laggare non significa eravamo in cinquattacinque leo leo frame laggare significa come te che vai da 165 fps a 100 quello ti fa frame laggare ma non da 59 a 60 ahahahah cosa non me lo fai affermo non mi ha fatto ziriditare la cosa non so come ho fatto no raga no raga però mi vende piangere ciao vedo no raga è inconcettibile questa cosa eccomi ciao beda non è beda ah non è beda non è beda inizio e bambini n cosa ti ho fatto cosa ti ho fatto mi sono pure morto che cazzo un po' gli ho detto sei un bdè c raga alema quanto senti mai tanto forte ahahah io sono andato scarsissimo invece eh me le merito io le 500 wind a me la camp edo se mi scrivi i miei tempi d'oro beh i miei gavino da zero eh i tempi d'oro di Ale i tempi d'oro non erano rischiato di perdere con Durges madonna i tempi d'oro di Ale era quando stava per entrare nei River mi ricordo no ci sono due non mi hai mai visto ci sono due tempi d'oro eh pre season ma i tempi d'oro dove giocavo ma ieri la season 2 karma vuoi essere morto ma eravate già morto ma eravate già morto uno spettatore finalmente questo è per il primo round che avevi fatto ucciso tutti facendoli cadere poi eravate morti tutti è vero raga edo Beda che fine ha fatto Beda è andato boh a a dormire perché domani c'è scuola non credo a chi è che va a dormire alle 21 e 49 perché c'è scuola beh tu vai a dormire che sei tardi ma magari magari deve fare il bravo ragazzo si Beda c'è ti possono scoprire tre volte ad usare il telefono non una tre il bello è che io l'avevano anche sequestrato e ha pure andato a chiedere se glielo poteva ridare come Gabriele Zampollo Leo si è quest'altro telefono il terzo giorno me lo puoi evitare però beh noi i nostri compagni in classe il primo giorno ha adesso fatto il PC si l'ha rotto lo schermo e anche i cristalli liquidi perché faceva strisce rosa mentre lo usavi non penso sia proprio molto normale Uffamo voi sei venuti forti io sono scarso ma sei 500 win io ma va frana ho 70 e chi è quello che è il 500 Ale e chi è ma questo è tutto fumato ma no 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 e vedo cosa credo cosa stai facendo e tutti stai appena avuto uno scildino edo edo cosa stai edo edo fermati ma se non ci credo c'è un no grazie non ci credo che al bm oh madonna da dove da dove bella 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 non posso dire però la kill di prima mi è piaciuta perché ti ho fa anche cliccato no la kill di prima si era che non lo prendi la kill di prima era GG ho sudato ho sudato con l'asciugamanino sulle spalle le ma io non riesco dal buco io la prossima volta non esco io non esco ci stavi bevendo la slurve io ti ho sparato con la R quanti edici non mi hai fatto eh quanti edici non mi hai fatto eh 2 edici mi sembra se non tratti probabilmente hai il fermo ti come ero tipo l'ultima casetta quella più indietro vabbè ma Edo è un tumore anche come amico no 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 il tumore è Ale Ale è un tumore Adria la madre bocchina la la madre che prende tanti di quei cazzi tu puoi vannare che adesso adesso c'hai un amico che c'ha una rana nell'acquario eh quindi si esatto uno ti dice mi posso bestemmiare o ti bannano sto qua boh fai riferimenti a 50 sfumature di nero ti ha conto che qua stai zitto Yari vieni c'hai il coraggio dai vieni vieni c'hai il coraggio ha 471 Yari cosa vuoi fare vieni 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 Yari vieni c'hai il coraggio questo qua è tipo il quarto no è il terzo vabbè vabbè si si sto spettatore ma come ma qui si rientra eh no no perchè se qui se qui e rientro e rientro dopo e continua a rimanere spettatore allora adesso mi dite chi è il bm e che cosa sto facendo se qua che sto sperando guardalo come lo stupro non sento la mia di gioca poi quella mi fa solo a giocare è un tipo di rinnovare e e bb e e bb e bb e bb e bb e bb e e bb e bb e bb e c'è giusto un lancerazi più grosso di e del cazzo di roko quindi Ma chi? Eh chi siete rimasti in due No c'è anche Leo Ah c'è anche Leo No sono morto Raga devo riavviare Raga credo che devo riavviare il gioco Riavvia Ok Ok Buongiorno Ma non è morto Ma vedi Ok Ma com'è possibile con questa cosa Adesso fa anche il figo Con questa cosa Pronti? Pronti al saltino? No 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 Si 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 Saltino Si è rotto sette costole No raga Fate schifo Fate schifo Ma seriamente potrebbe vincere Edo per stare bollata qui Ale si vede che sei scarso Stai zitto Un altro radio Perché ti si è rotto un polso Ti si è rotto un altro radio Ma guys Io mi sono quasi rotto un polso giocando a casa Ma guys di meno che fai fatica a fare una giornata Uno è scritto potresti mettere fps limitati per vedere come va il pc Si Mettili 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 Vuoi vedere anche come va Tant'è lo stesso che mi prendo io Raga Me ne fa Mi fa 260 Ero La boia Ero 8 di ping Caccia 8 di ping C'è il pc di Gesù Cristo No è quello meno costoso di tutti Non è vero Ma è solo sto con un livello Aspetta Beh raga Alla 230 C'è la madonna al posto della scheda madre Ma no Ma fa cagare la nostra scheda C'è Beh La scheda video Ma perché l'ha messa in qualità di gioco limitata Tipo Come cazzo si dice Ah si Ma la scheda video era 1050 Vabbè Se sei così bravo Prenditi un pc migliore Non so cosa dirti C'hai sempre da commentare 670 euro Costa Costa rebao 800 Si lo so Cos'hai scontato Dei 30 milioni di euro No perché nessuno lo prende Ma che cazzo ridi Non è così Vuoi vedere lì a Padova Ma Edoardo Edoardo ride tanto Ma alla fine lui ha l'Xbox Che fa ancora più cagare Si Padova esce 5 minuti dal centro storico E c'è il wifi del Burundi Poi metti i settaggi tutti bassi E visione epica Come fanno tutti i pro player Blu 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 Ma perché mi invita Lorenzo Lo invito io Eh ho messo tutto basso Bro guarda Aspetta Eh Aspetta Guarda Ma allora io metto FPS Illimitati Che cazzo non ne frega Guarda Aspetta vedete quanti ne fa Leo Infostazioni No Le ho fatto 305 Leo Le ho fatto 305 Sì Lorenzo mi vorrei spammare un altro po' di inviti Guarda nel live Guarda nel live Hai fatto 305 FPS Peta 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 Le è Lorenzo Sto lagando Sì Sceglie tutto Le è bella Crasciamo dalla creativa Che tanto No no mi ha fatto cosa Non ti preoccupare Ah vabbè 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 Guarda 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 Dovete Guarda Guarda Ma aspetta La persona che è in live Quella che mi ha detto di mettere FPS limitati e tutto Ma io devo Cioè io la texture Non mi sa epica Perché se no mi fa cagare la visuale Eh proprio per quello laghi No Cioè La texture Normale E base Fa cagare Il cazzo Ma Leo Posso chiedere una cosa Dimmi Tu Quando spacchi una struttura Ti fa lo stesso simbolino che c'è anche su xbox Sì Quando la spacchi Sì E non quello che c'è su pc E prima te lo faceva di quello da pc Cos'è che hai cambiato Non lo so Perché sono in mezzo la safe Ah gli effetti probabilmente Ah Non lo so Porca troia A me addio mondo Edo fai schifo cazzo Raga c'è Iceport Ti spesso Ma devi metterti lì a buttare giù Porca troia Perché 30 secondi per la rigenerazione Texture basso e visione epica Ah Vediamo Ma c'è la live Sì Dove è visione Ma intendi distanza visuale È bello leo Sai qual è che io Quando ho mandato gli screen a mondac Del bici Non ho questo Il giocato se regge 120 fps Raga se arrivo in sepe Voglio un premio Non arriverò mai in sepe Beh Ciao 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 Educa Aspetta ma visione epica Intendi distanza visione Sì Venite in chat Partita che mi è cresciato dal gruppo Eh raga andiamo in chat partita Ma io ti sento Ma anche io Eh fattissimo Ma no Eh boh Ice burto Eh Andate Mi è cresciato tantissimo dal gruppo lol Che bello 30 secondi di rigenerazione Comunque sto fa Gli ho fatti 300 Gli ho fatti Lorenzo ci sei? Sì Ma allora Tieni di così leo Cioè Con un 100 Con un 144 Hz Di 300 pensata con un 240 Risoluzione 3D metti massimo E texture basso Metti tutto basso Leo Metti tutto basso Ma ti esplode il monitor Ma perché abbandonato quello? Ah Leo 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 Per fare pfps Cosa devi fare? Togli la registrazione dei replay Continuo a scermi da sta minchia di partita Che palle Boia Ha ragione un botto quello Vada Dio Si vede un fottio bene Però Fran non mi fa tanto Cioè gli fps non me li fa molto Cazzo c'è ragione Si vede da dio O quello lì Io lo stimo Io gli faccio Che va bene O qualcosa Mi fa sicuramente di mettere tutto basso Non so perché No e la luce E la risoluzione 3D massima Però non fa tanti fps Ci arriva 200 Ma devi andare Eh vabbè Eh vabbè Ho visto E riaffianca Poglia Se va bene Cazzo Ha una visuale stupenda Quanto bella Mi sono messo doppio robo Oh raga Voi non potete capire Extra bella Beh basta Che va in live Ma rimanere spettatore Forse di qui Il cane Basta Ma vabbè Ma vabbè Dai karma Non c'è un bocca Grazie No Dai voi Non ho capito cosa hai detto Niente No Seriamente Non ho capito Cosa hai detto No che non è che questa lobby Sia proprio una lobby santa Ok Io ero un po' meglio Leonardo Dal vivo Eh Una persona Stanno Stanno Stommando Non posso iniziare A tirare le porche A casa Beh Ah che leo Ti fa 240 Che piaci In stream Così Io so Ma film Te ne fa 300 Fra E se mi Scherz Se tu hai Un profilo instagram Ti faccio una sponsorizzazione Con 1700 Pollue Perché voglia Fra Ma Leo 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 Ma sa che in futuro Se non pc In pc Fisso Puoi cambiare la scheda Video Per fare più fps Per vendere la migliore Puoi prendere solo quella Smonte il pc Attacchi quella Cambia Altra Sbamma Ma costa No me l'ha già detto Me l'ha già detto Ma costa Intorno ai 250 euro Una scheda madre più potente Depende quale No la scheda Finita Non la scheda madre E la vita Da 2007 Ma qua Ale C'è Bo Una scheda Quanto costerebbe Allora Una 2070 Come quel pc Costerà sugli 800 euro È la massima che c'è Come questo pc No Come quello Da 2000 euro Sì Riesci a dare i compiti Di matematica Ad oggi Male Fra Le ho fatti 300 Ma una E con Quanto arrivo Mi spiegate Mi spiegate Perché mi segnava 0 kg 6 1 o 1 o 2 Puoi arrivare Fino a O 350 Puniti Anche in stream Però 400 euro Ale Sono tanti Non so Io la mano d'opera Per fartela Mettere Ale Costa Eh beh Ci sono dei tutorial Ci sono dei tutorial Io no Ho paura Leo C'è Mario Leo C'è Mario Altro che mano d'opera Eh ma non so Se lo sa smontare Mario Ma che non costa C'è questo 40 euro Montare un pc Ma cazzo Ma sei qua Anche un po' meno Mi hanno dato Non ci credo Quanto ti ho fatto 180 180 No No mi sento male Mi sento male 100 90 Gli ho fatto Sara Bruco Il nonno era morto Guarda il mio chug jag Quanto godevo Ma vabbè Non ho potuto prendere Lo so che c'è Velo scarper Non ho fatto La stardo Karma Non ho sparare il pipistrello Oh dai Cosa Oddio guarda che mira che c'ho GG però le GG Gli ha fatto Gli ha tirato tre colpi di deagle Un volo No Calma Vediamo No dai ma veramente Non c'è la chumato Il mondo Tutto quello che mi ha fatto Perché ha fatto 30 secondi Che fastidio Cioè questo quanto ha creato la mano Quintici secondi di lei Quintici secondi di legno Sardo un round E trenta secondi di generazione Perché cazzo in testa Voleva far perdere un neurone alle persone Cazzo credo di averlo già perso Ok so dove Leonardo Ma sono risponato raga Però voglio in safe Raga sto risponato ma sono voglio in safe No è di solito quello del bug di tutte le Di no Tenta a seconda raga Si è pagato No Io lo volevo flickare in testa Non ci credo Ale Ale devi Devi ammazzarti E se no non finisce più sta roba Raga le facciamo torno al centro Io faccio Fatti tutti più torno al centro No Lorenzo basso solo che Ali si ammazza No ma il fatto che sono anche randobo Va così anche non si sbagga Dici che è anche un randobo Ciao Partita Non mi serve un plug Mi serve un plug Che sono i YouTube plug Io il plug Cioè ma quando Raga quando fa Oddio Cristo Quando fa il round Non mi sento più Cioè mi sento No ma proprio non mi sento Non so perché Ok quanto sono corde Cioè non ho fatto tempo Neanche a spawnare L'avevo già vinto Cioè sono troppo forte Oh iedo D'aggione vuole anche Vuole anche inglese Ma io ho detto che io lo faccio copriare domani Durante l'ora di spagnolo Oh no Perché No non gli mando Ho già ritirato fuori Tutta matematica Adesso devo ritirare fuori anche inglese Tu le hai fatte tutte le espressioni Io ho saltato la 55 Io le ho fatte tutte Ma me ne sono venute due Questo uno è un affatto La 48 La 48 non l'ha fatta Perché non c'era voglia di stare L'ho mai Mi aveva fatto 19rotta Lei non è stato che ci sia Dyson E hai visto Come ti ho sparato con la Deagle Vai a guardare Vai a guardare la live Frimento il grilletto Fammi Wr ontto magia mamma non rompere le palle che sole sono le 10 ma va io rispondo a mia madre non rompere le palle come un mandato a svizzera a pugni beh guarda ma che dice solo queste cose sua madre il piccolo è molto rispetto no io e noi ci siamo capiti su quella fatale domanda vero ah ah non la dico e ti salvo la reputazione cosa gli ha chiesto se glielo usciva no no è peggio come è peggio no ormai mi hai messo curiosità devi dirmelo devi dirlo in live eh esatto no 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 capisco ciò che è una domanda troppo difficile da dire in live anche a loro tanto te la chiedo a scuola ti lancio gli evidenziatori finchè non me la dici ma che chiedo sai in testa di cazzo ma è Ali che se n'è andato beh tanto Nicola sa dove finiscono i suoi evidenziatori finiscono davanti alla cattedra ok ma è ancora vivo cosa raga chi è che è ancora vivo lei è cresciato è morto ripristino isola ripristino isola in corso ah perché raga ero ancora vivo io però non mi dava la win probabilmente Ale ha abbandonato si ma fate torno al centro no è morto e poi è abbandonato e comunque fate torno al centro io sono al centro perché c'è era orribile quel bug ah risoluzione vediamo raga io sono beh 1085 ce l'ho la risoluzione c'è solo Leo dov'è Karma? dovete quittare quitta quitta la quitta torna al centro non ha fatto abbandonare Nicola sei al centro guarda 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 sono veloce guarda guarda sono veloce Leo torna al centro ma Nicola non c'è più ok raga rientriamo boh vabbè brava va bene anche così c'è FBS ma non funzionano più le gomme che fastidio via via ma ci c'è roba in più qua che culo vabbè roba in più gratis c'è qualcuno vicino a me sono io no fermo io vedo della roba in più no vedo no no ti odio ma raga ma c'è putt lì no 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 è acquittato no mamma di cario avete veramente lo tuo cacchio eh vabbè siete figli a fare così ma non ti ho neanchitato mi inviti nel gruppo certo Nicola non è morto mi pilda laggo 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 no 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 raga mi è crescita in una creativa raga no perchè quando uno entra eh qui qualcuno vuoi clash quando qualcuno entra in creativa non so perchè che vita che vita brutta che vita brutta eh lo so vero non mi ha buildato non mi ha buildato yes bitch non mi ha buildato quello per scendere non mi ha buildato non mi ha buildato raga dobbiamo aspettare assist di milinkovic che bello raga ma perchè mi sta tipo esplodendo la creativa che ogni volta clash cosa raga sono state cosa è successo il gesù praticamente non avviate la partita ah c'è venti secondi perchè dopo sia via da sola vabbè siete tutti qua grandi raga che palmi eh finalmente muovo un controllo raga adesso è andato via il più forte non è comunque contesa perchè c'è calma però ma non è contesa perchè ci sono io vedo ma sei detto che hai fatto cagare nell'ultimo periodo ma no non nell'ultimo periodo faccio cagare e bastane non nell'ultimo periodo c'ho cagato prima ero forte un tempo eh un tempo prima di smettere di giocare forse ero forte forse ecco chi è che sta spammando sotto di me io no io non ho ancora sparato ancora edo cos'è che hai detto non è combattuto perchè c'è il karma indovina chi mi ha pusciato karma ovviamente perchè c'ho c'ho la maffa è una di un pachiderma che viene inculato da un rinoceronte io vado io vado vado dentro la scala dove sono venuto e mi ritrovo le occhio con un pompa che è mirato alla faccia con 9 di vita beh è sempre meglio della maffa che ti bussa della mafia che ti bussa la porta bella la maffa ma magari ti vuole chiedere un panino che ne sai magari ti dici ma vuoi entrare nella mafia ma si dai perchè ora ti bussa la porta ma vuoi essere della mafia ah certo eh certo eh certo non stavo aspettando altro sei quello che deve far da esca mentre noi fuggiamo ehi sono della mafia e tutto tutto non ne basta la pena vero aspetta ma io ora morirò va bene te ne fai una ragione intanto prima o poi esatto eh eh tu mi facevi vedere quando mi metti i tuoi video in che tu facevi ogni cosa possibile al mondo perchè ora fai schifo mi ha quittato della creativa 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 sei innappo cioè ti non mi hai neanche sparato si che ti ho sparato ma mi hai sparato si che ti ho mi ha quittato della creativa ti ho preso 140 in testa cosa non l'ho visto vecchio ma cos'è incerto? ah vabbè esploso vedo ce ne faremo una ragione ragazzi quel dm è un peso in meno basta io non esco finchè non si sono finchè non sono sicuro che voi siete lontani non esco ciao ah no questo è leo ok dov'è leo? leo si teletrasporta leo non vuoi il risultato te lo ricordo leo non ci si teletrasporta te l'ha ripetuto più volte tua mamma ma corretta! non ci si teletrasporta con i gis conosciuti aia 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 anch'io raga mi era cresciuto da tutto nooo non ce ne eravamo mancò nooo ti sei ti è stato bellissimo ragazzi io non esisto eh uff se c'ho se c'ho un replay salvato lo devo vedere perchè tanto è bello vedo ti sei perso una di quelle cose che sarebbe rimasta nella storia ragazzi io ero rimasta 15 di vita mi vorrei dire eh è un pochino buongiorno per sicurezza per sicurezza ha mali estremi estremi e estremi i rimedi dai c'è Nicola che sto provando a fare di tutto ma dai mi avete visto mi avete visto quello scudo di minchia oh buongiorno no 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 non ce ne vado per ora muoio ok madonna mia che mi era il culo che c'ho c'è ci pianto le patate quei soldi che faccio per terra è arrivato uno forte chi è? no no eh sono i segnali nooo uuuuh 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 felici 3 spettatori e noi ci sentiamo loro noi ci possono sentire raga le ho invitatori tutti forti e io scarto io voglio un fottutissimo no 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 ma mi dà che iari non è online ma c'è la vita stupida devo vera che bella ma no com'è che si chiama io no e non vuole migliori e non ciò che non ho non ce l'ho come amico scusami non lo volevo fare perdono padre basta troppe persone aiuto ma ma far si faccia i cazzi suoi aia ma lei c'ha proprio la vita che ma questo sputa karma 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 con una merca di 35 centimetri grande karma raga c'è un ognomo io ho qualcosa che voi non avete un ognomo io ho qualcosa che voi non avete la minchia di 40 centimetri io ho qualcosa che non avete la minchia di 50 centimetri eh la madonna il cazzo sei eh Rocco sposta ti c'è va diretto porca puttana allora Edo perchè mi sta chiamando Edo adesso dimmi eh ok adesso ti invito tu sacco eh tu seconda comunque te lo sto dicendo invitami si adesso ti invito un attimo che sono poi in una situazione difficile ok per le 10 e 35 ma è male no ma com'è che non ti ha preso quella merda di vita mi hai sfiorato ti ho sfiorato ti ho fatto implodere le cervelle oh cazzo metti sta cazzo di trappola vabbè adesso invito Edo Edo mi hai chiamato proprio nel momento più sbagliato no ho lancarato il posto dell'errore dove sei? madonna mia se ti metti di nuovo la V come prima lettera ti hai ti spacco le ossa ma scusami ma perchè io scusami ti ho sfiorato cosa che ti ho preso in gola no mi hai sfiorato ti è entrato su per il culo quel lazzo sì mi hai sfiorato sì sì ho visto ma non ci sto credendo neanche io quindi sono crashato di nuovo dalla creatia tanto perchè tanto perchè va bene questo è per avermi ucciso due volte da dieci mi ha crashato? sì è un pc msi comunque tutti sti bug sarebbe un gioco migliore che entra uno in partita e ne crasha uno ma posso avere un nonno? voglio un nonno ma posso non crashare dalla creativa? il mio cazzo di telefono salvo a me va bene ti sei di 60 anni però voglio un nonno perché mi sta guardando? io ma se volevi il tattico prima no tu non hai capito voleva scambiare il tattico per il loro che mira oh cosa mi chiudi? ti devo invitare aspetta che dopo ricrescio io scommettiamo dai vuoi pure invitami sì adesso ti mi come mi parti pubblico fai le cose cioè fai qualcosa ice borto invitato ci sei? mi hai dato un crash che bello ma come? borto invita nel gruppo ma invita nel gruppo eh calma sai com'è con 300 fps ovvio che sono rapido come? raga mettete previ o si pubblica perché Nicola non lo riesco più a invitare sai com'è? starei mi è crashata la creativa no dai perché non è nemmeno godo 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 comunque è un m6 sì quanto godo sì quanto godo ma chi è questo? che karma è morto che karma è morto ma ho vinto ma che cazzo raga wow sì 800 euro costa questo pc certo non è morto ma non è morto mattino non è morto sì ce l'ho fatta oh my god boh vabbè raga io stacco la live perché devo andare a dormire comunque ciao a tutti oggi è stata probabilmente la migliore live perché comunque è stata una bellissima live perché abbiamo raggiunto abbiamo raggiunto un voto di spettatori c'è comunque nel momento migliore eravamo 8 spettatori che non è male e quindi vabbè ciao raga è così è così è così è così